Rifinitura del bambinello. Piano piano sistemiamo il bambinello, abbiamo già fatto la mano, ora rifiniamo. Con carta vetrata finissima per poi passare alla pitturazione. Ed è sempre il vostro amico Giovanni Alessi che dal suo atelier vi augura una buona giornata con questo piccolo bellissimo bambinello che sto restaurando. Buona giornata amici ed amiche. Ciao.